Grazie intanto a tutti voi signore e signori, colleghi che siete presenti per aver onorato con la vostra presenza questa cerimonia. Quindi un grazie a voi tutti per celebrare assieme il ventennale della Rete Gare. Un ringraziamento particolare lo debbo però al nostro ospite, al Ministero di Istruzione e Università della Ricerca, nella figura qui accanto a me del direttore Mario Ali, direttore generale per l'internazionizzazione della ricerca. Perché questo? Perché la scelta del MIUR di ospitarci credo che per noi significhi tantissimo, significa molto, perché al di là di essere in una sede istituzionale prestigiosa, ribadisce un legame essenziale che lega la intera comunità del GAR a questo Ministero e che costituisce per noi, il Ministero, proprio il primo, direi, naturale riferimento nelle istituzioni. E bisogna dire, senza il quale, verrà ricordato poi più avanti da numerosi interventi, il GAR stesso non sarebbe mai esistito. Quindi questo davvero un doveroso ringraziamento al Ministero. Poche parole per dare uno squarcio di, veloce, di cosa è stata la storia della GAR. Non vi preoccupate, non la farò io, ci sono altri che non sono stati i protagonisti, poi che avranno modo di farlo molto meglio di me. Molto rapidamente, voglio ricordare che a metà circa degli anni Ottanta, su mandato del Ministro della Ricerca di allora, il Professor Orio Carlini, che era delegato del Ministro, ed il cui ruolo poi sarà fondamentale, verrà ricordato più avanti per la storia stessa del GAR, il Professor Carlini invita il CNR, l'INFM, l'Enea e la rete di università e di consorzi universitari che si occupavano del tema specifico delle reti, cioè una sorta di piccola galassia di gente che in maniera un po' pioneristica, quasi da visionari, stava esplorando il territorio a quei tempi abbastanza inesplorato delle reti, e spesso lo faceva per conto proprio, Carlini dunque invita questi enti, che sono gli enti principali che si occupavano del tema, a riunirsi per concordare, l'occasione era questa, per tentare di concordare una posizione unitaria italiana su un progetto di rete europea, COSIN, che andava formandosi in quel tempo. Riferiscono le cronache, dovrei dire, perché io non ne sono stato protagonista diretto, che fin da subito, dalle prime riunioni di questo gruppo, nasce l'idea di una rete nazionale che legasse università agli enti di ricerca, e appare per la prima volta la parola GAR, che lo ricordo a noi tutti, significava gruppo per l'armonizzazione delle reti di ricerca, già un concetto di armonizzazione quasi sconosciuto, oggi, figuriamoci a quei tempi, nel nostro Paese, appare l'altro. Oggi è nel lessico comune, è quasi un mantra che viene ripetuto a proposito e più spesso a sproposito, l'espressione fare rete, come per ricordare una necessità impellente, indispensabile, a molte altre istanze del Paese. Ma allora, parlo di più di vent'anni fa, quello della rete unitaria, per di più una rete fisica, appariva come una visione molto ambiziosa. Anche se i promotori, a quel tempo, sono pienamente consapevoli che una infrastruttura del genere sarebbe stata capace di portare grandi benefici a tutti e di far fare, in generale, un salto di qualità notevole al tema stesso della trasmissione dei dati. Comunque, gli enti e i loro rappresentanti si entusiasmano, si rivolgono all'interlocutore naturale, il Ministro della Ricerca Antonio Ruberti, il quale anche in questa occasione mostrerà una visione lungimirante che poi ne caratterizzò l'intera opera istituzionale. Il Ministro raccoglie la sfida, si dà da fare, nel 1989 viene infine finanziato un progetto su base triennale per realizzare una rete unitaria della ricerca. I visionari hanno una sponda istituzionale che ci crede e ci mette i quattrini. Siamo nell'89. Salto rapidamente a tre anni dopo, 1991, una volta tanto nel nostro Paese un progetto triennale dura esattamente tre anni, una rarità, ed ecco appunto che nel 1991 la rete che era stata immaginata da un gruppo di, come dicevo, di pionieri visionari diventa realtà. 1991, oggi a vent'anni di distanza, i primi vent'anni, io penso di poter dire interpretando le speranze di tutti, oggi celebriamo vent'anni dalla attivazione, dalla prima attivazione del progetto, a quel punto il progetto stesso prende il nome del gruppo da cui nasce, si chiama GAR, pensato da un gruppo, come dicevo, di visionari che si incontravano all'inizio quasi in maniera carbonara, pensato da visionari però che credevano, se mi permettete un callembur, credevano di dire nel fare rete per fare una rete, fisica però in questo caso, oggi tutti vogliono fare rete. Questi fecero rete nel senso che si collegarono e misero a patrimonio comune le loro conoscenze e costruirono una rete. Credevano cioè quel gruppo nella condivisione delle risorse, nel mettere a fattor comune le idee, le energie dei singoli, superando anche, come dire, patriottismi di appartenenza, il tutto per mettere a patrimonio comune le loro conoscenze, le loro visioni, a vantaggio alla ricerca scientifica. Oggi con una qualche ambizione potremmo dire che quella era, il termine venne dopo, era una best practice. Oggi una best practice di quel tipo potrebbe essere assunta come paradigmatica per i bisogni stessi di sviluppo, non solo della rete, quello lo stiamo facendo, ma anche di tanti altri settori del Paese. E magari con una best practice di questo tipo, che parta da quegli entusiasmi, con quella lucidità di visione, superare anche, come dire, una certa rassegnazione declinista, diciamo così, che sembra ormai avvolgere tutto il Paese. L'evento di oggi quindi ha nelle nostre estensioni lo scopo di ricordare e di celebrare adeguatamente l'impegno intelligente ed appassionato dei tanti che si sono spesi per la realizzazione della rete in questi 20 anni. Le tappe più significative nella storia della rete GAR poi saranno ricordate più avanti, come dicevo, da altri colleghi, che ringrazio fin d'ora per il loro contributo, e che le hanno vissute direttamente. Molte di loro sono presenti in sala e io, a nome dell'istituzione che oggi ho l'onore di presiedere, le ringrazio ancora una volta. Ma vorrei cogliere comunque l'occasione per uno sguardo veloce al presente, forse ancora più al futuro, perché, e dico per fortuna, quei visionari che 20 anni fa hanno iniziato a lavorare alla prima rete GAR, che potremmo individuare come la prima generazione degli operatori GAR. Per fortuna, dicevo, quella prima generazione ha fatto scuola e ha contribuito a formare una sorta di seconda generazione che ne condivide pienamente la filosofia di fondo, che sintetizzando potremmo condensare in una sorta di gusto per l'innovazione continua, che oggi continua, e continua a guidare l'azione e di nuovi progetti del GAR. Infatti, se oggi possiamo celebrare 20 anni, è perché la rete fisica in questo periodo è evoluta in senso tecnologico, ma la rete che ho richiamato prima, quella metafisica, quella delle passioni per le nuove frontiere, che trova ora i suoi snodi fondamentali nella seconda generazione, non è certo venuta meno all'approccio di apertura al nuovo, per rispondere e spesso anticipare le esigenze della comunità di utenti, che nel frattempo è enormemente cresciuta in quantità ed in qualità. Ebbene, a questa seconda generazione, che in sala è ben rappresentata, credo debba andare il plauso di noi tutti e credo anche che i genitori, cioè quelli della prima generazione, possono essere orgogliosi di quanto hanno seminato, visto il tipo di raccolto di cui possiamo vantarci. Ma credo che proprio nello spirito di quei visionari che oggi ricordiamo è ora di pensare anche ad una nuova generazione, una terza generazione. E per questo nel corso della mattinata verrà presentato da un lato il futuro prossimo della rete, che vedrà a breve l'implementazione piena di Garix, cioè della prima Next Generation Network riservata alla comunità scientifica. Ma nell'occasione noi approfitteremo anche per il conferimento di premi intitolati ad Antonio Roberti e a Dorio Carlini e attraverso di essi cercheremo di gettare uno sguardo anche verso il futuro, verso la terza generazione, dando cioè la possibilità ai giovani brillanti vincitori di questo premio di continuare il lavoro e speriamo di dare vita con loro davvero a una terza generazione non meno visionaria, non meno aperta al nuovo e altrettanto prolifica delle generazioni seconda e prima. Questi primi vent'anni di Garix sono stati caratterizzati da una grande evoluzione sia a livello tecnologico che gestionale, ma questi cambiamenti profondi non hanno modificato lo spirito con cui venti anni fa è partito il progetto. Nel corso di questi due decenni si è cercato di non disperdere quel patrimonio prezioso che, come ricordavo, è fatto non solo di conoscenze tecniche avanzatissime ma anche di relazioni e di entusiasmo. Credo che è proprio grazie a questo spirito, a questa sorta di, forse i sociologi lo chiamerebbero di intangibile capitale sociale, che il Gar è riuscito a svolgere un ruolo di eccellenza che viene riconosciuto, di questo bisogna esserne consapevoli pienamente, viene riconosciuto da tutta la comunità scientifica nazionale ed internazionale e non ce lo diciamo da soli ma è stato dimostrato anche di recente da un adit internazionale indipendente, ma anche è testimoniato dai ruoli rivestiti come capofila in importanti progetti internazionali. Mi avvio a conclusione, ma mi preme, prima di chiudere, di rimarcare come l'aspetto fondamentale che ha caratterizzato la storia stessa del Gar e che ne costituisce, io credo, l'asset più rilevante, è il forte, fortissimo, strettissimo rapporto con la propria comunità di riferimento e tutti gli altri stakeholders. Il Gar è nato dalla comunità dell'Università della Ricerca come gruppo di esperti provenienti da istituzioni diverse, ma il Gar si identifica soprattutto con la sua comunità e continuerà a farlo nel futuro tenendo ben presente che la sua missione istituzionale di strumento tecnologico di altissimo livello è destinata al mondo scientifico nazionale. e questo è lo strumento attraverso il quale si possono realizzare collaborazioni di furti e sempre più interdisciplinari, accedere a nuove risorse, a dati, a strumentazione, cooperare con colleghi di tutto il mondo. Il segreto, credo, per mantenere questo ruolo prestigioso è proprio quello di non perdere la relazione stretta e creativa con questa comunità. Infatti, se il Gar ha portato avanti importanti attività di ricerca, sviluppo di nuove idee, nuovi protocolli, nuove tecnologie, nuovi servizi, lo deve non solo, torno a ripetere, alla competenza del suo management, del suo personale, che voglio ringraziare ancora una volta, ma soprattutto alla attitudine, all'ascolto delle esigenze della comunità e dal dialogo continuo con tutti gli utilizzatori. In questi venti anni il Gar è stato un riferimento tecnologico per i ricercatori ed un sinonimo di innovazione continua e collaborazione scientifica diffusa. Questo è quanto ci impegniamo a fare anche nei prossimi anni, con la collaborazione di tutti e con la passione e l'entusiasmo, lo stesso che animarono vent'anni fa quei visioniari cui tanto noi dobbiamo e che oggi dobbiamo ricordare. Grazie. 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 Grazie.